di voglia di adesso riposare e non sul letto per stare in attimo no io voglio stare qui questa è casa mia rettino che non sei l'altro quanti anni ha il signor Natalizzi? 124 vado per 135 ammazzo hai vinto il 25 l'altro giorno mi ha detto guarda io sono guarda io sono